Eccoci qua tifosi nerazzurri, cuori nerazzurri per questo secondo video di giornata, un video veloce, per rinforzare la mia tesi, che secondo me sono tutte fesserie, è uscito da 37 minuti un tweet di Maurizio Pistocchi, quindi una persona che di calcio se ne intende, un giornalista serio, e di solito quando parla ci ha sempre preso, a differenza di altra gente. Non faccio nomi perché poi vengo rimproverato di prendermela sempre con quel pagliaccio lì. Maurizio Pistocchi dice, Conte non è stupido e sa che la situazione del calcio mondiale impone un ridimensionamento dei costi, ma pensa che cedendo gli esuberi, non rinnovando i contratti scadenza e lavorando sui giovani, si possa fare una squadra competitiva. Parole di Maurizio Pistocchi, ditemi, ditemi se questo discorso non è l'unico logico, perché come parlano tutti, sembra che la crisi finanziaria ce l'abbia solo l'Inter, oppure molti giornalai che sono pagati, hanno la mazzetta da certe società, per nascondere la polvere, gli scheletri degli altri cercano di mettere in evidenza quelli dell'Inter. Come una volta disse Marotta, mi sembra che sull'Inter ci sia la lente di ingrandimento a far capire che sugli altri non se ne parla, che sono messi come o peggio di noi, e su di noi c'è l'occhio puntato. Queste sono le parole di Maurizio Pistocchi. Uno contro centomila. Alla fine, vedremo chi avrà avuto ragione. I centomila o uno? Io questa cosa la dissi poco fa nel video precedente. E una persona come Maurizio Pistocchi praticamente ha confermato la mia teoria. Io sono sempre più convinto che Conte rimanga, che questa è tutta fuffa creata dal fatto che l'Inter non ti dà modo di vendere giornali perché non ti passa niente. E anche modo per coprire i disagi economici delle altre società. Perché ricordatevi che sono tutti nella merda. Ma a proposito, ma se ne è parlato che adesso è ufficiale che la UEFA ha aperto un fascicolo su Juventus, Real Madrid e Barcellona? O ci nascondiamo dietro un dito, o ci nascondiamo dietro Zang, o ci nascondiamo dietro Conte. La UEFA ha aperto un fascicolo contro Juve, Real Madrid e Barcellona. E noi oggi stiamo a parlare di Conte, di Zang e di divorzio. Quello doveva essere un titolo. La Juve ha contro un fascicolo aperto dalla UEFA. Ma noi parliamo di Conte per nascondere la merda degli altri. Ragazzi, era un video breve. Era solo per rinforzare la mia idea. Ringrazio Maurizio Pistocchi che ovviamente seguo assiduamente su Twitter. Lo ringrazio di cuore perché è veramente una persona che usa il cervello per parlare. Se il video vi è piaciuto mettete mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale di Luigi Nerazzurro. Nel bene e nel male, comunque andranno le cose. Amala!